ciao ragazzi bentornati in un nuovo video oggi siamo qui per pullare la c1 di yae speriamo di pullare la c1 di yae e la sua arma yae c0 l'abbiamo già portata a casa metterò anche la clip del momento in cui abbiamo trovato yae c0 e non abbiamo trovato solo yae c0 quindi metterò la clip anche di quel momento lì in particolare ma al di là di questo oggi incrociamo le dita perché cerchiamo di portare a casa c1 e arma male che vada ci teniamo il garantito per balla quindi è comunque tutto di guadagnato ad ogni modo noi ci vediamo a fine video io vi ringrazio per la compagnia c'è tutta la bellissima chat qua sotto che sta salutando e noi ci vediamo in un altro video ciao pt16 ok bene vediamo se fosse un win sit non sarebbe male dato che lo devo rifainare nel caso in cui l'arma non sia quella che voglio poi nel banner delle armi quindi se è un'arma bene tanto sarà una di una molto probabilmente per chi ha visto le prime pull sa che sarà una di una ok 4 stelle ora no credevo che vi dicevo che vi dicevo era una di una meno sentivo meno sentivo pt16 andiamo a pt26 aiuto lo sapevo che mi ha detto il mio ragionamento o nelle prime due multi del banner o se no direttamente in fondo oh mio dio questo cambia tutto questo aiuto ok allora la questione è questa la questione è questa adesso o è effettivamente iae e allora provo a pullare per vedere se perdo il 50 e 50 poi se non è iae mi prendo la c1 di iae a quel punto per il garantito e mi tengo il 50 e 50 poi per balla e e vedremo la come andrà questa è l'unica cosa che tipo avrebbe scombinato tutto il pt basso va bene ok allora questo era pt16 questo è 17 toni con i giochi benvenuto in live pt17 pt18 oh magari è cici eh ragazzi speriamo sia cici ma se è cici ragazzi se è cici no vabbè pt18 pt19 pt20 ok pt21 22 è l'ultima 23 24 sì 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 finalmente ho tutti i pg del gioco è fatta tutti i pg del gioco li ho tutti da il travel a iae li ho tutti finalmente il genshin deck è completo sì sì il 50 e 50 più bello da perdere della storia questo ragazzi è un sì 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 ok quindi riparciamo pt1 pt1 pt2 vabbè due di ora ok vedete nuovo nuovo cici non ce l'avevo è nuova è nuova gioco dal primo giorno di gioco ed è nuova vediamo vediamo allora pt64 ok ve l'ho detto mi va bene tutto pt65 ok teoricamente la prossima è la soft pt quindi quella che ha la percentuale aumentata di essere 5 stelle non è detto che esca non è che siamo al pt siamo al soft quindi vediamo pt66 ok no andiamo avanti tanto è questione di qualche singola 67 4 stelle oh mio dio buona buona ragazzi se qualcuno per caso tira delle multi sul banner delle armi perché le vuole tirare questa è l'arma da prendere questa questa arma che vedete qua è veramente buona tra le armi lì presenti è quella più recente è un'ottima lancia in attacco percentuale veramente veramente carina questa quindi questo è un refine per me quindi buono ok probabilmente è questa perché di solito a me esce sempre alla 67 e alla 69 quindi siamo qua se hai scenè e snap è perfetta su scenè ad esempio allora 68 eccoci vediamo yes ottimo va bene arma presa in saccoccia e portata a casa sì sì ottimo 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 oggi è una giornata bellissima oggi è una giornata bellissima oggi è una giornata bellissima ripartiamo siamo a pt2 e andiamo a pt12 let's go pt12 ok 4 stelle non esageriamo non esageriamo comunque sì franzo dovrai assolutamente recuperare l'arma se ti piace tanto hito come pg te la straconsiglio ok maestro ho tutti i pg del gioco e ho trovato subito l'arma adesso prendo la c1 di yae e oggi siamo in pace con il mondo e cc è uscita a pt26 quindi bene molti delle armi attenzione 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 molti delle armi attenzione attenzione e andiamo a pt22 con il garantito quindi yae 4 stelle allora certo 2-4 stelle in una multi potrebbero anche darmeli 2-4 stelle non dico 3-4 ma 2-4 stelle una multi non mi sembra di chiedere qualcosa di così estremo invece l'ultimo 4 stelle sempre toma salve toma ci sei anche te in questo banner incredibile 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 questa è la multi che ci ha portato fortuna ragazzi la multi da pt20 a 30 è quella che ci ha portato fortuna quindi andiamo pt30 cioè 22 a pt32 per un attimo per un attimo vi giuro che un attimino l'avevo sentita ciao fab buon pomeriggio l'avevo sentita per un attimino piccolo eh piccolo però per un attimino l'avevo percepita ok dov'è la mia diona no ma ok il gioco è rotto ufficialmente il gioco è rotto ci siamo andiamo a pt42 ok 4 stelle 2-4 stelle 2 almeno 2-4 stelle no eh non sia mai non sia mai 2-4 stelle non sia mai dai mi manca anche diona ora ecco la rain slasher ecco allora forse stavo bene senza 4 stelle nella multi quella la rain slasher se la potevano tenere in tutta onestà francamente parlando mio caro francamente parlando la potevate tenere per voi però multi delle armi pt52 poi poi rifillino tattico pt52 multi delle armi prima no niente meno multi delle armi fine del meme esatto dobbiamo crearci un nuovo meme adesso il punto è buildiamo shish e diluk o no ora che sono tutti tornati a casa e qualsiasi 50 e 50 è qualcosa che già abbiamo salve toma per l'ottantesima volta oggi ragazzi le dione se ne sono andate hanno lasciato lo spazio ai toma adesso la nuova canzone è official dove eh no scusa eh no hai ragione diona hai ragione perdonami sono andata troppo avanti con le parole giustamente tu c'eri dietro l'angola proprio qua come un gufo sul collo a farmi pressione psicologica perdonami perdonami diona che ho dibutato della sua presenza allora pt62 no pt52 ok ci sono pt52 andiamo a pt62 ce la faccio ok ce la faccio ok ma fischel fischel dov'è è andata via fischel 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 ciao fischel allora il richiamo possiamo anche dire pio pio non era sicura se sareste venuti ma siete arrivati ragazzi ciao salve a me non so che ci siete anche voi in questo banner ci siete anche voi in questo banner è un buon assatersi sapete com'è ragazzi non l'avevamo vista finora pio 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 fischel sessantadue andiamo a pt72 meno male a sto punto non dovevo uscire ora ma nella prossima multi perché almeno c'è il garantito vorrei provare a tirare due singole così che vada a 74 e poi tirare la mia multi però ho paura in queste due singole esca però sarebbe da fare sarebbe da fare il doppia iae esatto pio pio eccola qua di nuovo vabbè allora in questo banner mi sono toccati tutti non posso dire niente è stato molto molto omogeneo in realtà 3 toma 2 fish o 2 diona o 3 diona 3 diona insomma comunque omogeneo omogeneo ok pt73 pt74 meno male vediamo e nel doppio 5 stelle andiamo forza preghiamo ok 75 76 c1 c1 a casa c1 a casa ci sono due ho trovato gli iaia adesso nella stessa multi o cc dai grazie leo grazie in entrambi i casi mi va bene tanto comunque oppure oppure no 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 ce l'ho già c3 basta basta no la chiamata no 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 ma assolutamente va bene vado quanto rido se non esce un 5 stelle no 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 voglio vedere la faccia di Maui no dai cosa è vero un attimo ragazzi tutti sulla stream di Maui guardatemi ok 75 la prossima la prossima è la 76 mamma mia ho più l'ansia quella pesante no ok 70 77 ok la prima parte del mio malore eccola adesso arriva anche Cici no ma mi serve Cici bene in realtà 78 oggi subito ragazzi ok ma smettila un quadrato è un litro come fa sempre a D-Luke è D-Luke ok va bene 79 no ragazzi io me ne vado me ne vado non ce la faccio più mi sento malissimo non ce la ricauta non ce la ricauta non ce la 5 stelle sta facendo un cuore ricauta al contrario 80 dai sono un muro mezzo no ragazzi ragazzi non ci credo non è vero non è vero Leo non ci piace ragazzi sto malissimo ragazzi ok portiamoci a casa la nostra Yai in questo multi che ci ha fatto piangere quindi è il momento di tornare a casa Yai torna a casa dalla mamma brava brava Yai dove sei dove sei ok la prossima è la 77 che è la mia 76 yes alla 77 è arrivata a casa non c'è stato Diluc prima non c'è stato Diluc nessuno ha visto Diluc e sono arrivata Yai a casa tra l'altro la sua splash art è una delle mie preferite vi faccio la fotina di